Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi vi sveleremo cosa sta veramente succedendo tra Brando e Raffaella, a pochi mesi di distanza dalla conclusione del programma condotto dalla De Filippi. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Brando e Fricchian e Raffaella Squatto hanno vissuto una storia emozionante a uomini e donne, scegliendosi nonostante i numerosi alti e bassi durante il programma. All'inizio della loro relazione, i due hanno condiviso momenti felici sui social, suscitando entusiasmo tra i loro follower. Negli ultimi tempi, però, hanno smesso di postare foto insieme, preferendo immagini da soli o con amici e familiari, facendo nascere voci su una possibile rottura. Il ragazzo ha spiegato che avrebbero rispettato i loro tempi prima di convivere, affermando, rispettare i propri tempi non significa non volersi bene. Entrambi hanno nuovi impegni professionali che sembrano complicare la gestione della loro relazione a distanza. L'esperto di gossip Amedeo Vence ha cercato di tranquillizzare i fan, dicendo che i due si rivedranno presto, Brando e Raffaella tutto ok, per impegni di entrambi non sono stati insieme ma si rivedranno a breve. Nonostante queste rassicurazioni, la mancanza di interazioni sui social e il silenzio della coppia alimentano i dubbi tra i fan sulla stabilità della loro relazione. I fan continuano a sperare che la coppia riesca a superare le difficoltà legate alla distanza e rimanga insieme. La loro storia d'amore è ancora agli inizi, e avranno tutto il tempo per trovare un equilibrio e un punto d'incontro. Raffaella e Brando devono affrontare le sfide di una relazione a distanza, ma entrambi sembrano determinati a fare il possibile per restare uniti. E tu cosa ne pensi della storia d'amore tra questi due giovani ragazzi? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.